Ecco il numero 2, unico evangelisti, con porta a schierla, 4x4. Si tratta il numero 29, colbrelli, con la lancia letta integrale di gruppo A. E' il 29, colbrelli, ed eccoci alla terza vettura, una lancia letta, è la numero 3, e che ci si amati, con la lancia letta integrale di gruppo A, terza in classifica nella seconda giornata. Ed eccoci alla quarta vettura, è una lancia letta, è il numero 8, grossi mari, grossi mari su lancia letta integrale della scuderia Castelfranco, la Ford Sierra, numero 13, di Mampinato Condotta, è una 4x4 di gruppo N, quinta in classifica. Ed eccoci alla sesta vettura, lancia letta, è la numero 5, di G. Martini Niumelli, la gruppo A, scuderia Jolly Club. Alla sesta vettura, lancia, no scusate, è una Ford Sierra numero 6, 20 vogli Fettiger, Ford Sierra Corsburg, del gruppo N. All'ottava vettura, la lancia letta, la lancia letta, la lancia letta, è la numero 19, Castelfranco, di Pedretti, con lancia letta integrale N6, della Chiminelli Team. Ed eccoci alla nona vettura, Ford Sierra, della numero 4, Rai Nini Noppio, Ford Sierra Corporal 1A, della Videosport International. Ed eccoci alla decima vettura, una Ford Sierra, è la numero 9, Dionisio Belleli, della Ford Sierra Corporal 4x4, gruppo N6, della Bresciarelli. Ed eccoci all'undicesima vettura, Opel GSI, è la numero 16, di Ciraci Cavallo, 9 cadet, gruppo A, quadri e corsa Verona. Posto in classifica in questa seconda giornata, alla Ford Sierra, numero 14, di Ercolani Larker, una 4x4 della San Marino. tredicesima vettura e tredicesimo posto per la lancia delta, numero 18, di De Paoli Mall, una lancia delta integrale gruppo N, della Delta Racing. Quattordicesima vettura, una lancia delta, della numero 38, per il Verbo Mico De Noti, lancia delta integrale gruppo N, della Bresciarelli. Quindicesimo posto, in questa seconda giornata, e per questa Peugeot, numero 54, Tebaldini Cerrutti, un gruppo N4, del team Mille Miglia. Ed ecco la sedicesima vettura, è una Ford Sierra, con il numero 23, vediamo Berti Di Marco, da Ford Sierra. e la Ghost Promotion. Dicesettesima posizione, per la BMW, per la BMW, questa BMW, numero 48, di Golgiolico, per la Car Racing, ecco, diciottesima vettura, ecco, diciottesima vettura, Opel CSI numero 43, numero 43, D4, 4, della squadra Corsa di Verona. del percorso, di terrestri, ma non è scanto, 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 non è scanto. Ma è qui! Ford Sierra Cosmo, 4x4, della Star Racing, ventesima posizione, per questa Lancia Delta, del numero 41, da Veni Tagliacan, da Gruppo N, della Mirabella Mille Miglia, ventunesima vettura, Lancia Delta, numero 28, tre maschini del Lancia Rally, scuderia nuova, ed ecco la ventiduesima.